Un lavoro alla fine del mondo. Proteggo gli uomini dai pericoli che non riescono a vedere. Non c'è un secondo in cui non pensi a te in un modo o in un altro. Torna a casa ragazzi, muovetemi! Torna a casa ragazzi, muovetemi! Qualcuno ci troverà, si saranno accordi che siamo precipitati. Nessuno ci troverà, non qui. Scopriamo da che parte è il sud e muoviamoci. Sarà una storia pazzesca da raccontare alle feste. Cos'è? Rialzati! Restiamo fermi e fissiamoli negli occhi. Se arriviamo a quegli alberi possiamo difenderci meglio. Eccoli! Via! Via! Corri! Vuoi scendere da qui? Non abbiamo scelta. Se seguiamo il fiume troveremo un riparo. Come facciamo a uscire? Li ammazziamo uno alla volta. Vorrei vedere il tuo viso, sentire le tue mani nelle mie. Non ti fai male! Non aver paura. Non ti fai male!